Volevo precisare che la donna al centro commerciale di Milazio non c'è mai andata, non c'è stato nessun acquisto né di magliette né di scarpe per il bambino. Anzi si è diretta in tutta altra direzione. E' direttamente immessa nell'autostrada per dirigersi probabilmente, e questa è la tesi più probabile, verso quella postazione, quella struttura artistica che si trova uscendo da, credo, da Santo Stefano. La piramide? Ecco, perché voi siete così, avvocato, questo è importante per noi capirlo, perché voi siete, voi, lei che è il legale della famiglia, voi siete così convinti che la sua destinazione fosse quella. Da che cosa deducete questo elemento? Nei giorni precedenti, comunque durante il periodo del Covid, della restrizione della libertà, Viviana si era appassionata a questa struttura e aveva manifestato ai familiari, anche al marito, il desiderio di fare questo viaggio, di vedere questa struttura. Ne era rimasta affascinata, potremmo anche dire ossessionata da questa struttura, voleva andare a vederla. Probabilmente voleva fare questo viaggio senza la presenza di altre persone. Ecco perché probabilmente, siamo nell'ambito delle ipotesi, va a dire al marito guarda che esco per comprare le scarpe... Avvocato scusi, la fermiamo per un minuto, la fermiamo, abbiamo una brevissima...